Il Signor Corrado Nemis, il nuovo Vescovo, a sedersi nella Cattedra Episcopale, dove riceverà l'abbraccio di pace da parte di tutti i Vescovi presenti. Con l'ansitudine e la purezza di cuore, sia offerta viva e a Te gradita, per Cristo Tuo Figlio, a Te, compadre, la gloria, la potenza, l'onore, per Cristo con lo Spirito Santo nella Santa Chiesa, ora e nei secoli dei secoli. Grazie. 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 Grazie.